buongiorno maresciallo sono rene costa sono una ragazzina di asola sono venuta qui oggi per intervistarla voi cosa potete fare per aiutarci in caso di bullismo grazie rene grazie per essere venuta e grazie per rappresentare tutti i ragazzi di asola e in particolare i ragazzi dell'associazione liberamente il tema del bullismo è un tema che noi carabinieri ma in particolare tutte le forze di polizia tutte le istituzioni scolastiche hanno molto al cuore beh le due domande sono tante e meritano tante risposte iniziamo col dire che quando si parla di bullismo quando un ragazzo una ragazza torna a casa e incomincia a rappresentare dei problemi la cosa più importante da fare per un genitore è quella di ascoltare proprio figlio il dialogo è alla base di tutto ascoltare il problema senza neanche fare troppe domande senza neanche insistere su una risoluzione immediata capire e ascoltare è alla base di ogni inizio ogni base di ogni risoluzione quando si percepisce appunto che si tratta di bullismo la prima cosa da fare è quella di parlare con gli insegnanti col coordinatore e nel caso anche con il dirigente scolastico ricordiamoci che il bullo molto spesso ha una empatia particolare con la vittima molto spesso agisce in branco e molto spesso agisce nei periodi in cui l'insegnante o personale addetti al controllo dei ragazzi non sono presenti agisce di nascosto e agisce con determinati e continue azioni che vanno appunto a ledere anche la capacità di risposta della vittima quali sono i modi per risolvere questo problema intanto sono tanti ad oggi il legislatore non ha trovato un vero e proprio reato dal nome bullismo scritto all'interno del nostro codice penale però ricordiamoci che il bullo solitamente con azioni perduranti nel tempo può provocare anche un reato di atti persecutori con delle percosse con delle lesioni può procurare appunto delitti punibili dal codice penale ricordiamoci che il codice penale vale anche per i soggetti minori e quindi si può procedere anche con una denuncia nei confronti di questi ragazzi inoltre da un po' di tempo è previsto anche l'ammonimento del questore nei confronti del bullo che prima di arrivare a una vera e propria denuncia la vittima appuntamente al suo genitore o chi ne fa le veci si può recare in qualsiasi caserma dell'arma dei carabinieri e appunto chiedere a mezzo di una proposta l'ammonimento del questore che in pratica cos'è questo ammonimento del questore è un vero e proprio richiamo ufficiale scritto su un classico foglio di carta che va appunto a è la cosiddetta tirata d'orecchie formale e scritta che viene fatta nei confronti del bullo però voglio che tu riferisca a tutti i tuoi amici compagni che la migliore arma nei confronti dei bulli è il dialogo dialogando con gli insegnanti con i genitori e anche con i carabinieri questo problema può essere risolto grazie mille per la disponibilità diffonderò questo video a tutti i miei amici grazie mille per la disponibilità 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 grazie mille per la disponibilità